Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora, ieri sera ho avuto modo di seguire come faccio spesso la trasmissione su La Sette di Giovanni Floris. Questo giornalista si è dimostrato ancora una volta essere un giornalista che, secondo il mio punto di vista, è difficile considerare tale, in quanto un giornalista avrebbe sempre il dovere di raccontare una verità a 360 gradi e soprattutto di non strumentalizzare e, ancor peggio, mistificare la realtà. Ora, il caso riguarda la famosa citofonata di Matteo Salvini. Parentesi su questo. Come ormai succede in ogni circostanza, la sinistra cerca di strumentalizzare e lo farà per molto molto tempo il discorso della citofonata, così come ha fatto in passato e lo sta d'altronde facendo tuttora il papete. Questa è la strategia che utilizza la sinistra italiana. Peccato che, come ho avuto più volte modo di sottolineare, quando invece è la destra, i media di destra, che avrebbero la possibilità di parlare tutti i giorni di certi argomenti, noi non lo facciamo. Ce ne sono stati tantissimi. Per chi mi conosce, ho avuto modo di raccontare come tanto tempo fa, perché ormai sono passati 3-4 mesi. Nel mese di settembre, io ho fatto un video con l'argomento che riguardava proprio l'indagine nei confronti della Fondazione Open di Matteo Renzi. La notizia poi è uscita ufficialmente due mesi dopo. Io avevo letto questa notizia su un solo giornale che ne ha parlato una sola volta di domenica e non ha mai più riportato questa notizia. Questo, purtroppo, è la cosa che mi fa dispiacere e che voglio sottolineare. Però torniamo alla trasmissione di ieri sera. Ora, sentendo Giovanni Floris, per quelli che hanno avuto modo di seguire questa trasmissione, lui è partito, come fa sempre, praticamente con le sue parole, facendo credere che Matteo Salvini, oltre ad aver citofonato a questo signore, l'abbia direttamente accusato di essere uno spacciatore. E invece sappiamo che questo è una mistificazione della realtà perché le cose non sono assolutamente andate così. E ora, proprio per non rischiare di sbagliare, io vi leggo esattamente quello che Matteo Salvini ha detto in quella famosa conversazione con la persona che ha risposto a questo citofono. Matteo Salvini ha esordito dicendo ci hanno segnalato una cosa sgradevole. Volevo che lei la smentisse. Ora, voi già capite da questo esordio. C'è uno che ti accusa direttamente, non si rivolge a te in questa maniera. Ma, ripeto, lui dice volevo che lei la smentisse. Io ti do la possibilità. E che possibilità? Davanti al leader dell'opposizione, davanti alle telecamere, di smentire quella che è una certezza, che è una voce che circola nel quartiere. Andiamo avanti. Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio della droga nel quartiere. e la persona dice chi e lui ce l'hanno detto dei cittadini. Hanno detto giusto o sbagliato? Ora, voi capite questa persona avrebbe anche potuto adesso io non so esattamente se è vero che abbia risposto minorenne oppure no. Sta di fatto che poi allora stavo dicendo questa persona avrebbe potuto anche scendere e spiegare a Matteo Salvini come stavano le cose. Ripeto, magari non la persona che ha risposto inizialmente ma successivamente Matteo Salvini riprova a citofonare e sicuramente in quella circostanza risponde un adulto. E Matteo Salvini gli dice voglio riabilitare il buon nome della sua famiglia. Dicono che lei e suo figlio spacciate. Ora capite se io non ho nulla da nascondere anzi io penso di di essere a conoscenza del fatto che nel quartiere sta circolando questa voce ma io prendo la situazione l'occasione la prendo subito mia la faccio mia scendo in strada davanti alle telecamere e a Matteo Salvini e smentisco questa cosa. Capite? E smentisco la cosa che io sia uno spacciatore e che la stessa cosa riguardi la mia famiglia. Invece così non è stato però voi capite la gravità sta nel fatto che Giovanni Floris strumentalizza questa cosa perché lasciamo stare se sia stato opportuno o meno opportuno citofonare io vi ho già detto il mio punto di vista io non l'avrei fatto così come ieri sera ha sottolineato la stessa cosa Giorgia Meloni io mi sarei messo in mezzo al quartiere facendo filmare il luogo in cui mi trovo avrei chiesto di spiegare alla signora che ha fatto la denuncia come stavano le cose e avrei semplicemente concluso dicendo mi auguro che a questo punto chi di dovere intervenga io avrei fatto una cosa così però io sono io e Matteo Salvini la pensa in maniera diversa e ha utilizzato una strategia differente sta di fatto che ancora una volta un giornalista che fa semplicemente delle notizie che non sono come si dice attendibili perché non raccontano la verità perché questa non è la verità raccontata a 360 gradi semplicemente una strumentalizzazione semplicemente Giovanni Floris come ormai ci siamo abituati a conoscerlo è uno dei bracci armati della sinistra insieme ai vari formigli e a Lily Gruber questa è la situazione ora io volevo tornare su un altro episodio spesso si è parlato in questi giorni anche di Mario Monti Mario Monti è colui che in qualche modo avrebbe dovuto trovare delle soluzioni per il nostro paese nel lontano 2011 invece poi sappiamo che il connubio Monti Fornero invece che portare qualcosa di positivo agli italiani ha ulteriormente peggiorato la situazione perché sono davanti agli occhi di tutti che in quel periodo non è vero che è sceso il debito pubblico non è vero che la situazione economica del nostro paese è migliorato e soprattutto tutti quanti sono a conoscenza dei danni che ha fatto la signora Fornero ora spesso Mario Monti nelle sue interviste ha avuto modo in qualche maniera di mettere in dubbio che bisogna sempre usare la democrazia nei paesi l'ha fatto di recenti sulla Brexit dicendo ad esempio che è stato male che si sia fatto un sondaggio si sia chiesto ai britannici di esprimersi sulla Brexit che per fortuna in Italia questo non avviene e non verrà chiesto ai cittadini di esprimersi su questo argomento ha usato talvolta altre metafore per mettere in dubbio che bisogna partire dalla democrazia come ad esempio quando ha detto ve lo leggo la democrazia è una forma di governo sbagliata perché è assurdo che siano le pecore a guidare il pastore anche su questo vedete molti sono intervenuti specialmente quelli che chiaramente hanno interesse a difendere la posizione di Mario Monti dicendo che questo fa comodo a coloro che vogliono in qualche modo strumentalizzare la situazione e soprattutto strumentalizzare le parole di Mario Monti che le parole di Mario Monti vanno lette in un certo contesto le parole di Mario Monti non sono esattamente quelle ma sono state in qualche modo messe insieme in un discorso più ampio cioè cercono secondo il mio punto di vista in qualche modo di annebbiarci un tantino quelle che sono le nostre idee ma vedete basta andare a vedere i fatti sono i fatti che in qualche modo condannano l'operato di personaggi come Monti come Fornero neanche rispetto alle parole che loro hanno utilizzato ma rispetto a quella che è stata la politica che non ha assolutamente portato dei benefici al nostro paese ora per tornare a queste cose e per tornare ai media vedete la cosa che mi dà particolarmente fastidio che spesso i media i media di destra su queste cose non intervengono io ad esempio ieri mi sarei aspettato anche da un direttore come Sallusti un intervento nei confronti di Giovanni Floris dicendogli ma cosa stai raccontando guarda che la realtà è un'altra tu stai mistificando la realtà ed è esattamente così poi se ci avete fatto caso c'è un'altra cosa terribile di questa storia nessuno parla della vera vittima la madre questa madre che ha denunciato il fatto perché lei ha perso per overdose un figlio la 7 non ha fatto minima menzione di questa cosa tutto ripeto estremamente strumentalizzato però ripeto io mi aspetto da uno come Sallusti che intervenga così come io mi aspetto che qualche volta quando la Fornero ci vuole fare il sermone quando la Fornero ci vuole fare la morale che qualcuno magari qualche volta chieda alla Fornero ma scusi ma lei quando è stata al Bilderberg che cosa si sono detti che cosa vi siete detti che cos'è secondo lei il Bilderberg c'è fare qualche domanda di questo tenore capite è questo che io mi aspetterei da una stampa di destra che secondo me deve diventare un po' più aggressiva chiudo dicendovi che come avete visto in questi giorni ho parlato meno dell'obiettivo delle manifestazioni intanto perché chiaramente il risultato in Emilia-Romagna ha un po' tolto quello che poteva essere uno dei motivi del scendere in piazza e cioè il pretendere le elezioni in secondo luogo perché è venuta fuori una proposta da parte della Lega una data da parte della Lega il 16 di febbraio il giorno prima dove il Senato si pronuncerà per quanto riguarda la procedura a carico di Matteo Salvini e quindi è chiaro che questo un attimino ci ha fatto fare delle riflessioni ci stiamo confrontando per decidere cosa fare però vedete ad esempio ci sarebbero ugualmente ci sarebbe ugualmente del materiale per scendere in piazza ad esempio proprio la mistificazione da parte della stampa della realtà o davanti alla 7 o al contrario farlo davanti ad un giornale di destra per dire ma voi su questa cosa non reagite su queste affermazioni di Giovanni Floris non prendete posizioni questo è quello che io che io realmente mi chiedo comunque vi terremo aggiornati e per intanto io vi ricordo sempre per chi non avesse ancora avuto l'occasione di iscriversi al mio canale e con questo vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio di iscriversi di iscriversi